Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Chanel Totti e Hilary Blasi sono sempre più vicine e affiatate, tanto da sembrare ormai una cosa sola. La figlia sembra somigliare sempre di più alla madre, tanto che i commenti sui social lo confermano. Chanel sembra seguire le orme della Blasi, affiancandola nelle uscite pubbliche e negli impegni lavorativi. Durante i concerti di Battiti Live, Chanel è stata l'ombra di Hilary, condividendo momenti dietro le quinte con artisti famosi come Tony F. Il legame tra madre e figlia è così forte che Hilary scherza con Tony sul fatto che Chanel sia presente dietro le quinte. Chanel, dal canto suo, dimostra gratitudine verso la madre con un post su Instagram, dove afferma di essere lusingata dal fatto di somigliare sempre di più a lei. Il legame speciale tra Chanel e Hilary è evidente, con la figlia che sembra seguire i passi della madre in ogni ambito. Chanel si chiede se diventerà una presentatrice come la mamma, se si sposerà con un calciatore famoso, suscitando curiosità tra i fan. Hilary, dal canto suo, fa di tutto per accontentare la figlia e Chanel dimostra di apprezzarlo, mostrando gratitudine e lusingandosi del fatto di somigliare sempre di più alla madre. Il post su Instagram di Chanel, con un tenero disegno di una mamma che abbraccia la figlia, testimonia il legame forte e speciale tra le due. Chanel e Hilary sembrano essere due gocce d'acqua. È sempre simile e unibile.